Quando manca meno di un mese al via del prossimo festival di Sanremo, abbiamo finalmente il quadro completo degli artisti e dei brani in gara. Sono stati infatti ufficializzati anche i titoli delle due nuove canzoni che, sul palco dell'Ariston, presenteranno Eina Reh Mahmoud, i due vincitori di Sanremo Giovani.Eina, uscito triunfante dalla prima delle due serate dedicate alle nuove proposte di Sanremo, esordirà al festival con il pezzo Parole Nuove. Il cantante, emerso l'anno scorso nel talent show Amici di Maria De Filippi, si era guadagnato l'ingresso tra i big poche settimane fa con 100.000 volte, singolo che potete ascoltare su Radio Italia.Doppo essersi esibito, nella notte di Capodanno, a Giardini Nexus Messina, Eina Reh già ha lavoro su questa e altre novità per il 2019.Mahmoud, invece, raggiungerà Eina Reh gli altri artisti di Sanremo 2019 con il brano intitolato Soldi. Il cantante di origini egiziane ha vinto la seconda serata di Sanremo Giovani con Gioventù Bruciata, brano che gli permetterà di tornare all'Ariston dopo l'esperienza tra le nuove proposte del 2016.Pochi giorni fa, Mahmoud ha dato il benvenuto a un promettente 2019, scrivendo ai fan il mio augurio per voi non è quello di ottenere tutto ciò che desiderate, ma di affrontare con gioia tutto ciò che vi capiterà appunto al festival di Sanremo. 2019 prenderanno parte in tutto 24 artisti Laker Mess, in programma dal 5 al 9 febbraio, vedrà ancora la direzione artistica di Claudio Baglioni, affiancato da altri due personaggi famosi.